Ciao a tutti e ben ritrovati! Allora, siamo giunti alla 24esima lezione e in questa lezione andremo a vedere come ricollegare gli oggetti che sono esterni al database e li abbiamo collegati in esso perché può succedere che magari cambia il nome di un driver piuttosto che il file a cui siamo collegati cambia di posizione Allora, come si fa a fare questa cosa qua? Andiamo nel nostro database di esempio Qui ho messo un po' di oggetti, abbiamo praticamente una tabella che arriva da SQL Server, un paio che arrivano da Access e un paio di CSV Quando noi passiamo sopra un oggetto collegato ci dice sempre la sua origine, vedete, dà sempre il percorso di dove arriva Qui ci sono due database Access differenti e qui mi dice sulla parte di SQL Server che praticamente all'inizio Odbc.dsn uguale SQL underscore mcss Quel SQL underscore mcss è il driver che io ho utilizzato per collegarmi Poi andando sulla destra vedo database mcss, il database SQL in quel caso lì E dopo anche il nome della tabella SQL a cui sono appoggiato Quindi passando sopra con il mouse appunto vedo un po' di informazioni Ipotizziamo che il driver odbc è cambiato oppure il database Access a cui sono appoggiate queste tabelle che adesso le leggo tranquillamente I percorsi siano cambiati e la stessa cosa per i CSV Allora, adesso ad esempio andiamo a modificare il percorso dei CSV Anzi, modifichiamo il percorso dell'Access Del dcsv Facciamo ad esempio questi due qua, ok Li spostiamo dentro a nuova cartella Ok, quindi che cosa succede? Io posso andare negli oggetti, faccio clic destro In un oggetto qualsiasi, indipendente dove lo fate L'importante è che sia sopra un oggetto perché se lo fate sul bianco vedete che vi fa vedere qualcos'altro Quindi clic destro E qui compare in fondo delle voci Allora, se noi andiamo su aggiorna collegamento, che cosa fa? Quando noi facciamo aggiorna collegamento, rinfresca, ok, il collegamento Però diciamo che a noi serve a poco Quello che ci serve di più è gestione tabelle collegate Se premiamo qua, si apre questo pannellino qua E se vedete lui mi dice, guarda tu hai un access, un'informazione Una o più informazioni che arrivano da questo access Una o più informazioni che arrivano da questo access Una o più informazioni che arrivano da questo driver di SQL Server da ODBC E uno o più file di testo, in questo caso csv, che arrivano da questo percorso di rete qua, ok? Lui le aggrega tutte Se dopo noi premiamo sul più, vedete che ci fa vedere gli oggetti che ci sono nella nostra database Se io vado ad esempio sul csv, ok? Perché se io adesso vado qua, ovviamente l'ho spostato Vedete, non trova più il csv Come faccio? Anche se faccio aggiorna collegamento Lui, vedete, quando faccio aggiorna mi viene direttamente dentro qua Ma è la stessa cosa appunto di fare gestione tabelle collegate Che alla fine si fa prima Quindi noi andiamo su qui Allora, se li dobbiamo aggiornare tutti e due Perché per tutti i csv che prima tingevano da questo percorso qua Ok? Selezioniamo direttamente testo, ok? E lui ce li seleziona tutti Quando noi selezioniamo questa cosa, vedete qua ci sono dei tasti disattivati Nel momento in cui io vado ad attivarli Vedete che qui si attiva Aggiorna Adesso ho premuto male Aggiorna Ricollega Aggiungi Elimina Modifica Ok, vedete? Allora, se io faccio modifica Ok Posso andare a modificare le specifiche Ad esempio qua che cosa succede? Mi dice, guarda Per questo gruppo, ok? Di testo Allora qui gli posso anche dare un nome differente A posto di chiamarlo Potrei chiamarlo csv Region Ok? E faccio un bel salva csv Region Faccio salva E praticamente, vedete, posso anche andare a nominare questi gruppi Quindi lui me li mette in automatico Ad esempio access, access, è poco parlante Devo stare qua a leggermi la descrizione Quindi con modifica potete fare questo tipo di attività Però qua c'è il percorso dell'origine dati, ok? E allora che cosa potrei fare? Io potrei andare qua Mi prendo la nuova origine dati E la metto qua Perfetto Poi io faccio salva Vedete, questa è cambiata Se io faccio Chiudi E poi torno Sul csv Vedete che La connessione è tornata a funzionare Quindi appunto Se noi andiamo su gestione tabelle collegate Possiamo appunto andare a configurare queste cose qua Io potrei anche prenderne uno solo E dirgli Guarda Fammi un bel ricollega E lui mi dice Ma come si chiama il file che vuoi ricollegare? Perché magari è cambiato No, me no E qui io gli potrei dire anche un nome differente Se è cambiato Ad esempio facciamo finta Che questo diventa un uno, ok? Facciamo così Adesso me lo vedo aperto Però diciamo che Nel momento in cui gli do il nome Ok? È il nome effettivamente che lui andrà a cercare nella folder Che specificheremo successivamente, ok? Se facciamo un bel ricollega al gruppo, ok? Mi chiederà esattamente quello che vedevo Quando andavo dentro su modifica Mi fa vedere il percorso di dove si trova il CSV Se facciamo ad esempio con gli access Che sono questi appunto, ok? Anche qui modifica, ok? Ci dice Dov'è l'access? Ecco che con noi qua gli diamo il percorso E il nome del file dell'access E qua possiamo dargli anche l'origine dei dati E qua possiamo anche specificare una password Nel caso l'access sia protetto Così noi possiamo accedere all'access Anche se è protetto La password va inserita qua Se dovete modificarla perché La password è stata modificata nell'access Non dovete ricollegarvi tutto Entrate qua, fate modifica E cambiate la password qua E siete a posto Con il driver ODBC è una cosa molto simile Se si va qua Si fa ad esempio Modifica, ok? E li diamo Qua c'è sempre il nome del gruppo E qua possiamo cambiare il nome del driver ODBC Perché magari bisogna collegarsi su un driver ODBC differenti Piuttosto che si fa Ricollega Si apre direttamente questa stringa qua E qua ripeto Si va a cambiare il nome del driver Questo è quanto sta dietro alla gestione delle tabelle collegate Quindi ricordatevi sempre Tasto destro Gestione tabelle collegate E qua potete andare a gestire appunto I puntamenti dei vostri oggetti esterni Bene Anche con questa lezione direi che è tutto Come sempre se è stato di vostro gradimento Magari condividete la risorsa nei vostri social Aggiungendo un commento positivo Se vi fa piacere Lasciate un like se volete Iscrivetevi se non siete iscritti Vi ringrazio molto per l'attenzione Ci vediamo alla prossima lezione A presto Ciao